Dopo aver ripreso per ben tre volte il Porto Sant'Elpidio, un vasto girare di duro a morire tra i banchi per sostenere la prova d'esame vastese rigenerata dal cambio di guida tecnica. Con l'ex Campobasso e Disernia Massimo Silva sulla panchina ragonese sono arrivate due vittorie in altre tante uscite. Per mister Farina problemi solo a centrocampo in virtù dell'assenza di pesce si gioca sotto la direzione del fischietto cosentino del signor Gigliotti. Poco meno di due giri di lancette, Bruni pesca Chieremateng che la gira tra le braccia di Di Rienzo. Al nono ancora Bruni, questa volta prova lui conclusione perfetta. Pallone sull'esterno della rete, al quarto d'ora sugli scudi il team altomolisano che sfrutta in maniera inefficace però una situazione di tre contro due. Bruni perde un prezioso tempo di gioco per calciare e viene murato dalla retroguardia abruzzese. Francesco Esposito al diciottesimo per l'alastese, lato destro dell'area di rigore, mette i brividi agli altomolisani con questo diagonale che si perde al lato. Vittorio Esposito cerca di destabilizzare la difesa avversaria, si apre il corridoio per Dos Santos. Tempestivo l'intervento di Siaulis che blocca in uscita la mezz'ora Albino Fazio direttamente dalla bandierina. Nel mucchio un pallone leggero di Rienzo con i pugni, devia sul palo e sul proseguo dell'azione viene atterrato Pigozzi. Per Gigliotti non c'è nulla di punibile. Capovolgimento di fronte si rinnova il duello tra Vittorio Esposito e Siaulis. Ad avere la meglio è ancora il portiere molisano. Ai titoli di goda un primo tempo dove possiamo porgere i nostri elogi ad entrambe le formazioni. Tutt'altro che rinunciatari alla regia di Antonio Di Perna per introdurci nella ripresa. 3.40 di Lullo si prende la licenza di calciare sulla traiettoria di Rienzo. Il pallone che termina sul fondo al dodicesimo Esposito fa correre Dos Santos. Siaulis può restare piantonato e braccare il pallone. Spinge ancora la vastese Marianelli per la testa della corrente Dos Santos. Le misure non sono quelle giuste. A questo punto il confronto ha bisogno di un episodio che arriva al 26esimo da un cross di Petrone. Tocco di mani di Di Filippo per l'arbitro e calcio di rigore. Chiare Mateng si riconferma un cecchino infallibile dal dischetto. Il vasto Girardi è sopra nel punteggio anche se alla 32esimo perde Mikhailovsky punito per un rosso diretto. Per un fallo di reazione che aveva animato notevolmente l'ambiente con un duro faccia a faccia tra le panchine. Placatosi fortunatamente nel migliore dei modi. Perso un colpo però il motore alto molisano non rallenta. Anzi va in accelerazione. Mister Farina e stromette Bruni per inserire Migno. Proprio lui a far secco di Rienzo in uscita e a mandare in cielo la grossa fetta di Civitelle dipinta di giallo-blu che celebra un vasto Girardi sensazionale. Sono sette i minuti di recupero per un finale assolutamente vietato ai deboli di cuore. Mischia in area locale Di Filippo raccoglie e realizza il gol che rimette in piedi Lavastese e riapre i giochi. L'ultimo tremolio al tramonto della sfida. Pizzutelli si coordina, prende la mira. Si Aulis si guadagna l'appellativo di eroe di giornata. Finisce 2-1 una partita dalle innumerevoli ed intriganti emozioni. Sorride la squadra di Farina che si avvicina al traguardo salvezza. Si carica allo stesso tempo per il derby di domenica prossima contro Lagnone. Non fa drammi Lavastese che depone con onore le armi alla luce di quanto di buono profuso sul terreno di gioco.